Amici del Piaggio del Mondo, oggi vi mostriamo il percorso per arrivare da Piazza Perbiscito fino all'ascensore per raggiungere il Monte Echia. L'altra volta siamo andati a piedi, quindi abbiamo percorso tutta questa strada, abbiamo preso le rampe lì e abbiamo raggiunto il Monte Echia a piedi. Adesso invece vi facciamo vedere come si raggiunge il Monte Echia con l'ascensore. Andiamo da Piazza Perbiscito. Oggi a Napoli fa veramente molto molto caldo, venite da Via Toledo, andando verso questa direzione potete andare sul Monte Echia senza prendere l'ascensore. Noi oggi, su richiesta vostra, che ci avete chiesto come si arriva per prendere l'ascensore, oggi vi facciamo vedere. Ecco, adesso andiamo sempre diritto. Adesso questa via che stiamo percorrendo è Via Cesario Console, quindi dobbiamo andare sempre diritto. Che bella giornata, vero? Guarda quanti turisti che ci sono. Ci sono sempre più turisti a Napoli. È bello che ci sono tutti questi turisti dopo la pandemia, è vero? È vero. Questa ripresa del turismo. Ecco amici, questa è Via Santa Lucia, lasciamo via Cesario Console e andiamo sempre diritto in questa direzione. È molto semplice arrivare, basta percorrere questa strada. Se avete visto i video precedenti vi abbiamo fatto vedere un po' di cose come arrivare anche a Spaccanapoli, come arrivare su Monte Eglia senza prendere l'ascensore. Qui potete pure mangiare. C'è questa ristorante-pizzeria. Ce ne sono un sacco di ristoranti qui dietro, vicino al lungomare, alle spalle del lungomare. Qui c'è anche una pasticceria, gelateria, dove potete rinfrescarvi, mangiare un gelato. Questa che stiamo percorrendo è tutta Via Santa Lucia, quindi va sempre, sempre, sempre diritto. È tutta una strada diritta. Parallela a lungomare. Amici, non so se riuscite già a vedere, ecco, già si intravede il Monte Eglia e la terrazza. Vi faccio vedere meglio, ecco, vedete là sopra. Questa volta ve l'abbiamo fatta vedere dall'alto, quindi da sopra la terrazza. Adesso ve la passiamo dal basso. Da giù si prende l'ascensore per arrivare. Qua si prende l'ascensore. Strano che non c'è molta gente. Ecco qua. Quindi, Via Santa Lucia, noi stiamo andando da quella direzione. Qui si fanno i biglietti. L'ascensore è aperto da lunedì alla domenica. Esatto, dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Il costo del biglietto per prendere l'ascensore è di un euro e trenta. Cerchiamo sempre di accontentarvi, di mostrarvi tutte le strade che voi ci chiedete nei messaggi, perché noi leggiamo tutti i messaggi. Esatto, molti di voi ci hanno chiesto come raggiungere l'ascensore del Monte Eglia e noi vi abbiamo accontentato. Ecco. In questo breve video vi lasciamo, ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao.